A proposito di pallavolo, due grandi figure del volley modenese sono state ricordate durante la premiazione della MoMA Winter Cup. Il Panathom Club Modena ha ricordato infatti il dottor Marco Grandi e Leo Novi dedicando loro i due premi Fair Play andati rispettivamente alla coach del Volley Barga, Martina Dini, al centrale di pallavolo Massa Carrara Gianluca Sozia. La premiazione la presidente del Panathom Club Modena, Maria Carafoli, e i figli Tommaso Grandi e Luca Novi. Felici di ricordare due grandi persone, due amici del volley nei ruoli di medico e dirigente. Il commento di Marco Neviani per scuola di pallavolo Anderlini, organizzatrice della MoMA Winter Cup. Parliamo di calcio con il Modena.